Il maledizio di me, signori, già come dì, il mendicante è riuscito a non tradire la sua fede, rifiutando il giudice d'oro. Don Giovanni, non è quanto a farlo. E allora, passiamo dunque al prossimo round e diamo la parola al commentatore. Vi rimango solo un istante per approfittare della misericordia divina. Se non vi pentite ora, siete perduto. Chi osa parlare in questo modo davanti a me.